Questo corso, questo master sta andando avanti alla grande, dobbiamo dire, perché sono diversi gli argomenti trattati, ma servono al mondo dell'impresa, non solo ai giovani, quindi al know-how delle imprese, ma anche agli adulti. Questo appuntamento con lei riguarda Instagram. Qual è la novità? Beh, ci sono tantissime novità su Instagram, anche perché è diventato uno strumento per lavorare, non è solo una questione di selfie o di foto delle vacanze. Per esempio, fra le ultimissime news, c'è la possibilità di comprare anche dei prodotti attraverso Instagram. Quindi Instagram sta diventando una sorta di motore di e-commerce, un po' come se fosse Amazon, Zalando e chissà e via. Quindi non è più solo una questione di vanità, come spesso e volentieri magari si pensa, ma è un vero e proprio strumento con cui le aziende, anche le piccole realtà, possono fare del business e guadagnare. C'è tutela per chi vuole entrare su Instagram con le proprie aziende, insomma, tenendo conto che ormai sui social c'è un mondo anche un po', dobbiamo dire, molte volte difficile da accettare? Diciamo che Instagram, più di altri social network, sta lavorando moltissimo su questo fronte. Per esempio, la possibilità di gestire commenti che possono essere considerati lesivi, l'utilizzo anche di tecnologie innovative come il machine learning, che certe volte si chiama anche intelligenza artificiale, evita proprio di bloccare e evita l'intervento da parte di persone che possono essere malintenzionate. Quindi c'è grande tutela anche delle aziende che ad esempio hanno strumenti anche per attivare l'e-commerce e anche un modo per tutelare i clienti, in questo caso i followers, da elementi, per esempio, tentativi di phishing, quindi di poter compromettere l'account, facendo tutto in massima sicurezza e semplicità. Ecco, semplicità. Perché un'azienda dovrebbe in qualche modo iscriversi ed entrare su Instagram? Lo dicono i numeri, nel senso che ad oggi nel mondo ci sono un miliardo di utenti che utilizza Instagram e metà di questo miliardo, quindi 500 milioni, utilizza Instagram quotidianamente. Questa percentuale, che già è interessante a livello mondiale, lo è ancora di più a livello italiano perché, in base ad alcune estime, gli utenti sono circa 20 milioni, il che vuol dire che una buona parte della popolazione attiva, quindi togliamo chiaramente gli ultranovantenni e i neonati, quindi una buona parte di questo pubblico è su un social network come Instagram e quindi molto semplicemente un'azienda cosa fa? Va a cercare i clienti dove sono i clienti e oggettivamente i clienti oggi sono sui social network, in particolare su Instagram. C'è stato un cambio di passo per quanto riguarda Instagram? Non solo per quanto riguarda Instagram, ma per quanto riguarda più in generale il mondo della tecnologia e dei social network. L'Italia è molto evoluta dal punto di vista dell'adozione dei social network e gli utenti sono molto propensi a essere sui social network e più in generale sul digitale anche per fare acquisti, non a caso l'ambito e-commerce sta crescendo. Ambito e-commerce che non deve mai essere visto come un concorrente del commercio offline, ma deve essere visto come un alleato, quindi questo significa anche adottare corrette strategie e così di cui parliamo e parleremo anche con colleghi docenti all'interno di questo master.